Piccoli comuni ma grandi compiti. Questione dibattuta da tempo a livello politico. Tuttavia, se è pacifico che i piccoli comuni rappresentano la spina dorsale che sostiene i territori, non è sempre vero che le politiche pubbliche mettono in campo provvedimenti e risorse per rendere i territori più vivibili e sicuri. Sul ruolo e sulle ragioni dei piccoli comuni si è dibattuto in un convegno che si è svolto ieri pomeriggio a Letto Manoppello. All'invito hanno risposto diversi sindaci e amministratori. L'incontro è stato organizzato dall'officina del deputato Luciano D'Alfonso. Tra i presenti anche il sindaco di Bari, nonché presidente nazionale del Lanci, Antonio De Caro. Li ascoltiamo entrambi. Le uniche agenzie di sviluppo che non hanno mai deluso sono i comuni e tra i comuni i piccoli comuni. Nel nostro introterra, se noi togliamo la grande funzione dei piccoli comuni che appaltano, garantiscono diritti, sono lì presenti davanti anche alla situazione sia di dolore e sia davanti ai progetti di vita e di ambizione. Senza i piccoli comuni non c'è la vita, non c'è la quantità e la qualità della vita. Per un quindicennio i piccoli comuni sono stati messi in difficoltà per quanto riguarda le risorse umane, gli impiegati, le competenze, la tecnologia e l'organizzazione. Finalmente ricominciamo a discutere e oggi lo faremo col presidente Lanci per fare in modo che si apra un dossier a favore dei piccoli comuni per consentire ai comuni di progettare, di eseguire e di utilizzare le grandi risorse sia del Fondo Coesione e Sviluppo che del PNRR. Dai piccoli comuni deriva la stabilità del suolo e del sottosuolo, l'edilizia scolastica, quindi la pubblica istruzione, le prime risposte di salute, sì, sulla vicenda della pandemia, se non ci fossero stati i sindaci dei piccoli comuni, l'Italia sarebbe stata la deriva. Ecco perché dobbiamo occuparcene con norme all'altezza. Dobbiamo cercare tutti di lavorare per un'agenda del controesodo, per ridurre lo spopolamento, evitare la riduzione demografica. Lo dobbiamo fare assicurando i servizi, lo stiamo facendo, interagendo col governo, con gli operatori economici, con il sistema scolastico, con gli istituti bancari, con poste italiane che finalmente comincia a organizzare delle strutture, a fare a volte anche da tesoreria per i comuni. Non basta. Stiamo facendo una sperimentazione con il PNRR su 250 piccoli borghi del nostro paese, finanziati dallo Stato, con fondi europei insieme alle regioni. Questo ancora non basta perché dobbiamo dare un futuro, soprattutto alle nuove generazioni, nei piccoli comuni, valorizzando quelli che sono anche i prodotti enogastronomici, le nostre bellezze, i servizi con lo smart working. Si può lavorare anche da casa e magari tante persone hanno più facilità a vivere in un piccolo borgo piuttosto che nella vita caotica di una metropoli.